Il match vinto dalla pasta Reggia Caserta a Cantù per 82 a 83 assomiglia molto al primo incontro vinto dalla Juve Caserta al Palasport Pianella, proprio contro Cantù, nella lunga storia di sfide con la formazione Brianzola. Sì, perché quella gara, priva dei quattro tempi, era all'epoca soltanto due da venti minuti, fu vinta dai casertani grazie alla capabilità di crederci fino in fondo. Fino a quando Pierluigi Marzorati e compagni si arresero nel finale al prepotente debutto di Nando Gentile, in versione playmaker, dal tiro preciso che, messo in campo dal coraggiosissimo coach Boscia Tanevic, diede lezione di palacanestro all'esperto ed incredulo Marzorati, playmaker di Cantù ma anche della Nazionale, che alla fine fece i complimenti a Nando Can. E quella storica vittoria di Caserta andò in diretta Rai con il commento dello storico giornalista compianto Aldo Giordani. Ieri a Cantù, o meglio sul campo del Paladesio, è andata di scena una vittoria della pasta Reggia Caserta conquistata più dal cuore che dalla tecnica. Perché, come successe anni fa, anche ieri Caserta ha dovuto rincorrere per poi sferrare il colpo di Grazia con Cinciarini e un immenso Sosa. E questa vittoria di Caserta dà la speranza di poter agguantare le Final Eight di Coppa Italia che quest'anno si giocheranno a Rimini. Ma, più precisamente, questa vittoria zittisce tutti quegli scettici pseudotifosi bianconeri che non credono ancora nella squadra. Fortunatamente sono diventati pochissimi, ma comunque ci sono ancora. E coach Sandro dell'Agnello, a proposito, ha sottolineato tra le righe in conferenza stampa che dopo questo match bisognerebbe chiedere scusa a Sosa per averlo contestato a lungo. Insomma, una vittoria che mantiene alto il morale di tutto l'ambiente casertano bianconero, in attesa del match di domenica prossima al Palamaggio contro Capo d'Orlando allenato dal casertano Gennaro Di Carlo. Tornando alla gara vinta dai casettani, il clou si è avuto negli ultimi giri di lancette, con un paio di bombe che hanno gelato il paladesio e un rimbalzo scacciacantù conquistato da Watt sulla sirena finale. Tornando, invece, agli uffici del Palamaggio, San Raffaele Iavazzi continua a mantenere a galla la squadra, dal punto di vista economico, perché il fondo straniero sembra sprofondato. Grazie. Grazie.